Buongiorno e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito andando a vedere insieme le prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dal centro che già vedete alle mie spalle, nell'edizione di Pescara. Il titolo di apertura è Tari, niente multe per i ritardatari. I bollettini non arrivano, pagamenti anche dopo il 31 di marzo nel capoluogo adriatico. Nel taglio alto il cordoglio per la morte di Frizzi, addio a Frizzi, gentiluomo della TV, il presentatore morto a 60 anni, il cordoglio di Mattarella e di tutto il paese. Andiamo a vedere adesso nelle cronache Castelvecchio subequo. Il titolo è rivolta contro il frate che vieta la processione. Padre Massimiliano di Carlo annulla la processione del venerdì santo e molti residenti lo accusano di voler cancellare le tradizioni secolari più care alla comunità. Per il parroco, con le minacce ricevute da alcuni parrocchiani, sarebbero venute meno le condizioni di sicurezza. E poi parliamo dell'omicidio neri, l'amica di Ale, l'assassino è qui a Pescara. Ancora la provincia di Pescara mette all'asta i veicoli vecchi. Andiamo a vedere insieme a centropagina il torneo delle regioni conclusa la fase eliminatoria, grande festa al porto turistico per 1500 giovani atleti. Poi sotto la fotografia l'Abruzzo verso le regionali l'assist di D'Alfonso al partito, tra 100 giorni mi dimetto. E poi la proposta di legge dei 5 Stelle, Pettinari, basta visite mediche a pagamento negli ospedali. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere la prima di L'Aquila sul Monaco, il titolo di apertura a case equivalenti vendita in blocco. L'Aquila, l'assessore al bilancio, valuta l'ipotesi per gli oltre 500 immobili. Ancora nelle cronache all'Aquila Palti rispunta la lettera di Letta a Bertolaso. E poi il Comune di Avezzano si dimettono di Fabio e Barbonetti, ancora problematiche in conseguenza dell'anatrazzoppa. A centropagina i riti di Pasqua a Sulmona, Madonna che scappa, sorteggiata la quadriglia. La tensione dell'attesa è palpabile, i nomi vengono estratti, il destino ha deciso. Si rinnova la magia dei riti pasquali a Sulmona con i sorteggi in contemporanea nelle due confraternite cittadine. La settimana santa è ormai entrata nel vivo con i nomi dei protagonisti dei riti religiosi per questa grande manifestazione che è la Madonna che scappa di Sulmona. Adesso ci spostiamo sulla prima pagina di Teramo del quotidiano Il Centro e andiamo a vedere qui il titolo di apertura. Condannato per la scuola esplosa un anno e otto mesi a un dirigente della CPL assolti gli altri quattro imputati. E poi andiamo a vedere a centropagina la cronaca con la fotonotizia incidente sulla bonifica a Tortoreto, anziani salvati dopo quasi due ore nell'auto ribaltata. Leggiamo anche la didascalia, i soccorsi sono scattati dopo che il figlio dei due anziani coniugi di Santomero, lui 84 anni, lei 74, non avendoli visti rientrare ha percorso la strada che avrebbero dovuto fare e avvistato la loro auto ribaltata in un fossato. I feriti erano intrappolati nell'abitacolo, sono stati tirati fuori e ricoverati in ospedale. Andiamo a vedere nelle cronache, andiamo a Corropoli, cinese ferito a colpi di forbici dopo una lite, poi verso le comunali il centrodestra dall'investitura a Giandonato Morra. Siamo chiaramente alle elezioni comunali per il rinnovo dell'amministrazione di Teramo, capoluogo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, sempre sul quotidiano Il Centro. Tari, rimborsi per 20.000 famiglie. Chieti, sentenza del Tar, boccia le tariffe del Comune per i rifiuti. Andiamo a vedere adesso le altre notizie. Partiamo dalla fotografia di centropagina. Torino di Sangro, allarme sulla costa dei Trabocchi, mareggiate, a rischio crollo la collina di Lago Dragoni. E poi continuiamo con la cronaca a Lanciano. In tre assaltano la gioielleria armati di fucile all'interno del centro commerciale Lanciano. E poi a Tessa picchia la moglie e il figlioletto, 38enne, arrestato con un'operazione dei carabinieri di a Tessa. Questo per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso cambiamo testata, passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. Il titolo di apertura botto all'asilo un solo colpevole. Teramo condanna a un anno e otto mesi per l'esplosione di Piano Daccio. Strage evitata per puro caso, secondo il perito del Tribunale, assolti due manager della CPL e due tecnici. Il tutto è accaduto il 3 ottobre di 5 anni fa, poco dopo, cioè che i bambini dall'asilo erano usciti alle ore 16, cioè un'ora dopo, alle 17, è scoppiato il vano caldaia della scuola. Andiamo a vedere le altre notizie. Il giallo di Pescara, la mamma di Ale al killer. So che lo conoscevi. Questo è un estratto del video che ha pubblicato la madre di Alessandro Neri su Facebook. Andiamo ancora avanti. Ancora la cronaca. Rapina con i fucili da Sarni. Bottino da 100 mila euro. Assalto dei banditi all'ora di pranzo nel centro commerciale Lanciano. Terrorizzate le commesse. Poi vediamo nella fotografia d'Alfonso, resto fino alla convalida. 100 giorni ancora da governatore. Ieri D'Alfonso ha chiarito quanto è in animo di fare relativamente all'incompatibilità con la carica di senatore. Andiamo ancora a centropagina. Ritroviamo gli aumenti dell'Atari. Aumenti bocciati. Chieti, Caostari. In arrivo migliaia di ricorsi. La scure sta per abbattersi sulle casse già approvate del Comune di Chieti. Il Tribunale amministrativo regionale infatti ha colto il ricorso presentato da alcuni consiglieri di minoranza sull'aumento delle tariffe dell'Atari. I cittadini hanno il diritto di chiedere i rimborsi. Andiamo a vedere anche di spalla che cosa propone il giornale. A Comadusele ecco il dizionario angolano. Le lingue locali nel libro di Marcello Castagna. Etimologie e vocaboli del dialetto locale. Nel taglio basso, festa in bianco, tanta neve e sole che Pasqua sugli sci. La Pasqua nell'Alto Sangro rompe gli schemi regalando una primavera sugli sci con giornate più lunghe stando alle previsioni anche un timido sole. Si sci anche nell'Aquilano, Vindoli e Campofelice ancora al palo invece lo sci sul Gran Sasso d'Italia. Andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie. Il rugby, l'Aquila, Cialenti in ospedale a prensione per il giocatore. Poi il volley di A2, buona azione. Sieco inaugurerà il nuovo palasport di Amatrice. Per quanto riguarda la Serie B, Pescara cresce la paura e adesso tutti sotto esame. La partita con il Brescia costituirà uno spartiacque per il proseguio. Probabile panchina per Pettinari e Fornasier, ma rientra. Valsania. Passiamo adesso alla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura il processo per la scuola esplosa. Condanna per la scuola esplosa il titolo a piano d'accio. 20 mesi al solo responsabile della manutenzione. Assolti gli altri tre CPL, Concordia. Andiamo a vedere le altre notizie nel taglio alto Giulianova. Oggi resa dei conti tra sindaco e partito democratico. A Roseto degli Abruzzi beneficia le nuove imprese, ma dappertutto. E poi andiamo a vedere a centropagina sanità. La regione annuncia in totale 168 milioni per quattro presidi. Dal sisma 80 milioni sull'ospedale Teramano. Di spalla partiti e civismo. Invertiti i rapporti di forza su Morra. Questo per quanto riguarda il centrodestra. C'è un altro approfondimento. I sottanelliani pronti a correre da soli con un loro candidato. Per quanto riguarda la cronaca. Spaccio alla villa. Restati due migranti. Beccati mentre cedevano Mariana a dei minorenni. Poi troviamo anche il commento di Marcello Martelli. Il girotondo dei numeri 1 per quanto riguarda questo editoriale di prima pagina. Nel taglio basso della prima pagina della città. Ancora la cronaca con la lite nella lavanderia. Ferito all'addome con le forbici. E poi la serie C Teramo sabato a Gubbio per blindare la pratica salvezza. Abbiamo visto anche le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura il caso Russia. Via 100 diplomatici russi. Veleni è 007. La decisione per solidarietà all'onda sul caso Skripal. Mosca annuncia la rapplesaglia. Guerra delle spie. L'affondo di Unione Europea e Stati Uniti. L'Italia ne spelle due. Salvini commenta. È un errore. Poi andiamo a centro pagina. Troviamo il cordoglio per la morte di Fabrizio Frizzi. Frizzi l'eterno ragazzo che portò il sorriso in tv. La malattia e il ritorno alla morte. Un addio che commuove. Il presentatore aveva 60 anni. E poi ancora Shoah. Supestito uccisa a Parigi da antisemiti. L'omicidio shock nella comunità ebraica. Passiamo sulla Repubblica. Qui il titolo invece è di politica interna. Lega 5 Stelle. Avanti piano. Di Maio. Io premier. Verso l'intesa sui programmi. Resta il nodo del nome per Palazzo Chigi. Andiamo a vedere l'immagine di centro pagina. Il presidente va in bus. La normalità si fa social. Con l'immagine del presidente della Camera Fico che prende un bus che porta da Termini a Montecitorio. Andiamo ancora avanti sulla stampa. Il titolo di apertura all'Europa. Espelle i diplomatici russi. La Lega è sbagliato. Roma ne ha allontanati due. Meloni è una scelta inaccettabile. Stati Uniti e Unione Europea uniti contro Putin via 100 funzionari. A centro pagina nella fotonotizia. La stampa ci propone una notizia diversa. Il popolo del Raiss e i seggi in pullman. L'Egitto ha il voto per confermare al Sisi viaggi organizzati contro l'astenzione. Troviamo anche la politica e le trattative per il governo. Di Maio. Ministeri di peso a Salvini. Il leader del carroccio apre al reddito di cittadinanza ma pensa a un Premier terzo che forse potrebbe essere la soluzione per uscire dall'impassa. Andiamo sul fatto quotidiano. C'è il caso Consip. Ancora Consip sbugiardati. Renzi Senior e Romeo si videro a Firenze. Nuove prove scoperte dall'arma. Smentiscono il babbo dell'ex Premier Renzi. L'ipotesi dei PM. Nel 2015 Tiziano che lo nega da sempre incontrò l'imprenditore napoletano al bar. Gli accreditò il compare Carlo Russo. Si chiede il fatto quotidiano che poi a centro pagina parla di politica. Salvini lancia l'amo ai 5 stelle e il PD cerca un posto a Casini. Palazzo Chigi e maggioranze. Leader leghista. Non sarò Premier a ogni costo. È quello che ha dichiarato nella giornata di ieri. Andiamo sul manifesto. Il tradizionale titolo principale sulla fotografia. A Mosca cieca. A 20 giorni dal caso Skripal. Stati Uniti e altri 18 paesi espellono oltre 100 diplomatici russi accusandoli di spionaggio. Due cacciati anche da Roma. Da chi? Si chiede il manifesto. Boris Johnson esulta. Grande risposta. Ma per Mosca è un atto ipocrita e ostile. Nel taglio alto troviamo le trattative per il governo. Governo Salvini batte due colpi. Il leader leghista apre a Di Maio sul reddito e sul Premier. Se non sono io non muoio. All'interno del Partito Democratico c'è questo approfondimento. Il PD sceglie i capigruppo. Guerini e Marcucci. Renzi fa ambo. Andiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico. Il titolo di apertura scontro con Mosca. Il fatto. Un'accelerazione nel caso dell'ex spia avvelenata in Inghilterra. Scatta la rappresaglia più massicce. Roma allontanerà due funzionari. 100 diplomatici russi espulsi da Stati Uniti, Unione Europea e Canada. In Italia dissensi sulla scelta e la Russia minaccia rappresaglie. Ancora la politica. I programmi per il governo. Salvini apre. Leghe 5 Stelle preparano le liste delle priorità. A centropagina troviamo anche la fotografia. Il titolo. La via crucis dei ragazzi. Il Papa l'isprona. Non tacete. Diffusi testi preparati da liceali romani. Passiamo sul sole 24 ore. Il principale quotidiano economico e finanziario italiano in apertura. Facebook. L'antitrust statunitense se indaga sul caso Datagate. Inchiesta dell'autority per violazione della privacy. Il titolo. Wall Street crolla fino al 5%. Panetta. Banca Italia monitora su Twitter la fiducia dei depositanti. Andiamo a vedere questo approfondimento sul welfare. Il peso dello squilibrio demografico. Vedete questa grafica. Il numero di persone di età superiore uguale a 65 anni rispetto alla popolazione in età lavorativa. Vedete l'Italia. È tra i paesi che ha questo rapporto più alto. la guarda del Fondo Monetario Internazionale. Preme sull'Unione Europea. Ora serve un fondo anticrisi. Indicato lo 0,35% del PIL di ogni Stato dell'Eurozona. E poi vedete previdenza. L'allarme della BCE, della Banca Centrale Europea, sul rischio invecchiamento. Gli effetti di freno alla crescita del PIL. Andiamo a vedere ancora sul sole. Partecipate 2,5 miliardi al tesoro. Maxi cedola in arrivo da Eni, Enel, Poste, Enav e Leonardo. Più 25% rispetto al 2016. Dalla sola cassa depositi e prestiti. Atteso oltre un miliardo per lo Stato. Andiamo sul messaggero. Torniamo alla guerra di spie. L'espulsione dei russi. 100 diplomatici di Putin allontanati da paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti per l'attentato con il gas in Gran Bretagna. Due di loro erano in Italia. Il carroccio si smarca e dice sbagliato. Mosca intanto prepara la rappresaglia. A centro pagina ritroviamo la morte di Fabrizio Frizzi. Aveva 60 anni. Il mondo dello spettacolo è non solo in lutto. Ciao Fabrizio, volto umano della TV da 40 anni nelle case degli italiani. Poi ritroviamo le trattative per il governo. Lega 5 Stelle si tratta sul reddito di cittadinanza. Ovviamente è sulla legge elettorale. Premiership. Il leader del carroccio apre, ma Di Maio non accetta terzi nomi. Dialogo sul DEF, cioè il documento di economia e finanza che va preparato, che il governo uscente sta preparando. Senza però indicazioni di merito sulla strada da seguire nel futuro che spetterà il prossimo governo. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. In apertura 5 Stelle Taglie Scucci. Il neopresidente della Camera va in bus e rinuncia a 3.000 euro di indennità, ma l'associazione di Casaleggio intascherà un milione l'anno dai suoi onorevoli. Andiamo a vedere le altre notizie. In particolare andiamo nella capitale. Buche a Roma. Una strage lunga cento anni. Morti sfollati, inghiottiti dal fango. Le voraggini della capitale mietono vittime da oltre un secolo. Ora andiamo a vedere il titolo principale di Libero. Una lezione per l'Italia. Fuori dall'Europa l'Inghilterra vola. Smentite le previsioni catastrofiste dopo la Brexit. Il PIL è salito all'1,8%, più del nostro. I disoccupati sono ai minimi da 43 anni, creati 560.000 posti di lavoro. Sì, la sterlina è scesa ed è stato un bene. L'Unione Europea vuole stangarci ancora sulle pensioni, ma la spesa previdenziale è già calata. Abbiamo letto anche sul sole il richiamo della Banca Centrale Europea. E poi a centropagina, Frizzi perché si muore all'improvviso. A 60 anni scompare il conduttore TV più sorridente. La verità. Riposizionamenti in corso. Pure la Chiesa benedice il governo secondo Matteo e Beppe Grillo. Il capo dei Vescovi italiani apre un esecutivo con il centrodestra e i 5 Stelle. Noi non abbiamo paura di nulla, indichiamo solo il bene comune. La Chiesa adegua, arriva dopo Confindustria, ma prima dei grandi giornali. Andiamo a vedere le altre notizie. Parliamo di MPS. Una pista lega i servizi a David Rossi. 16007 rivendica la morte del portavoce che, vi ricordo, si gettò o fu gettato. Insomma, bisogna ancora capirlo. Comunque morì dopo un volo dalla finestra del suo ufficio. La procura di Belluno dà credito alle accuse. Andiamo avanti. Il secolo d'Italia. Il problema non sono io con la foto di Matteo Salvini. Chiaramente il titolo riguarda le trattative per il nuovo governo. E poi, in primo piano, Berlusconi difende Forza Italia. Non c'è l'OPA di Salvini. L'Europa contro Mosca, espulsi i diplomatici russi. E poi si è spento Fabrizio Frizzi. Fu un simbolo di gentilezza. Andiamo sul mattino di Napoli. Adesso c'è la guerra di spie. In primo piano la nuova guerra fredda. Secondo il mattino, scandalo delle spie. Stati Uniti e Unione Europea espellono 100 diplomatici russi. L'Italia, due. Dura replica di Mosca che dice reagiremo da Roma allontanato. Un addetto al commercio. E poi le trattative per il governo. Trattative in salita tra Salvini e Di Maio. Il leader 5 Stelle chiude sul passo indietro. il leghista Io Premier. Non per forza. Andiamo a vedere le altre notizie. Ucciso per sbaglio a 19 anni. Presi i killer. Ciro Colonna fu freddato in un bar di Ponticelli durante un ride di Camorra. Stava giocando a Flipper. La sorella dice finito un incubo. Qualcuno ha pensato che fosse un criminale. Il secolo XIX. Il quotidiano genovese apre con una notizia che riguarda la Liguria. Ospedali Liguria e i privati. Affare da 385 milioni. Tre strutture in appalto. Tutti i dettagli. Due i bandi. Ecco i gruppi interessati. Intanto c'è l'inchiesta. Il nodo pronto soccorso. E poi nella fotonotizia il volto per bene della televisione per la morte di Fabrizio Frizzi. Il fratellone di tutti. Scrive il secolo XIX. Che nel taglio alto parla anche della spy story al veleno. Unione Europea e Stati Uniti via i diplomatici russi. Ma la Lega contesta e dice è un errore. C'è anche il caso Catalogna. Il giudice tedesco Pujdemont resti in carcere. Il presidente che ha guidato la rivolta contro Madrid secondo il giudice tedesco deve restare in carcere. Apriamo adesso lo spazio dedicato ai titoli di sport sui quotidiani nazionali. La gazzetta dello sport che già vedete alle mie spalle apre con la partita di questa sera. È l'ora di Gigio Donnarumma. Inghilterra Italia ore 21 su Rai 1. Stasera Donnarumma apre a Wembley il dopo Buffon che sarà comunque riserva. Di Biagio insiste in attacco su Immobile con Candreva e Insigne. Ci sono poi le dichiarazioni di Zola. Zola ci manca talento non denaro. L'attaccante che ha firmato l'ultima vittoria azzurra a Londra. Alexis del Chelsea inglesi più avanti Verratti non è una mezzala. Andiamo nel taglio alto il massimo andiamo a vedere perché panchina d'oro ad Allegri che stravince auguri a tutti a Sarri un po' meno. Gli allenatori dell'A votano lo Juventino davanti a Gasperini e al tecnico del Napoli. Colleghi non hanno dubbio il Livornese guaglia il record di tre trofei di Capello e Conte per la B vince semplici stroppa per la Lega Pro. Andiamo a vedere le altre notizie sentenza messi di Bala gioca nel mio ruolo Leo chiude la questione argentina e poi nella carica del nero-azzurro Spalletti Inter siamo tornati Cardi in Russia e poi il Mila nel futuro di Ringhio rinnovo gattuso tutto in tre giorni palla a Fassone. Ancora Camera ardente nella sede della Rai l'addio a Frizzi era il sorriso più amato della TV lo abbiamo visto aveva 60 anni e qui viene ricordato anche con una fotografia con il pilota Max Biagi. Andiamo a vedere anche la Formula 1 ma Vettel non si accontenta voglio una Ferrari più stabile dopo il trionfo di Melbourne queste le dichiarazioni della prima guida della Ferrari. Andiamo sul Corriere dello Sport adesso anche qui c'è la partita degli Azzurri in primo piano Juve ti faccio sudare dal ritiro azzurro il milanista Bonucci accende la sfida di sabato ad Allegri che ieri ha vinto la panchina d'oro ma chiaramente stasera tocca a Gigio Donnarumma Inghilterra Italia a Wembley ore 21 Rai 1 di Biagio mandi in campo l'erede di Buffon nel taglio alto Rivoluzione Roma Rosa ringiovanita nuovi preparatori cambia il ritiro tourne in usa ridotta Monce e Di Francesco rafforzano la loro posizione ai vertici della struttura e avviano un processo di cambiamento radicale a partire dal mercato poi ancora vediamo le altre notizie Lazio partita l'asta per Milinkovic poi il torneo di Viareggio Fiorentina Inter grande finale poker viola la Juve 2 a 0 nero azzurro col Parma domani si assegna la Coppa per la Formula 1 trionfo di Vettel la regia in Italia per i segreti della Ferrari rapidamente andiamo a vedere anche tutto sport Allegrone giocando con con Juan inglese con il cognome di Allegri gli allenatori assegnano a Max la panchina d'oro un professionista d'utile umano intelligente battuti Gasperini e Sarri il tecnico della Juve ritrova Manzuchic e Caricadibala timando ai mondiali e poi il Torino Belotti adesso spacca il toro la rabbia dei tifosi via la fascia questo per quanto riguarda anche tutto sport adesso ci dobbiamo fermare per il break pubblicitario prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6 eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi sul quotidiano il centro in primo piano la politica regionale il dopo 4 marzo verso le regionali d'Alfonso tra 100 giorni mi dimetto il governatore senatore guadagna tempo così aiuta il PD a chiudere la partita sulla scelta di un candidato autorevole andiamo a vedere le altre notizie altri finanziamenti dal Masterplan milioni di euro in arrivo anche per il volto santo e c'è una polemica ma i fondi destinati ai borghi fanno scoppiare la lite su facebook tra due sindaci si tratta di Rocco Micucci sindaco di Rapino che spara a zero contro Antonio Luciano il sindaco di Francavilla per 140 mila euro di finanziamenti ottenuti per la sistemazione del borgo di Francavilla e poi nel taglio basso assemblea regionale DM25 e i fan di Varufakis si contano l'Aquilano dell'Aventura entra nel collettivo nazionale andiamo avanti sulla pagina di primo piano del quotidiano il centro sanità regionale la legge proposta dal Movimento 5 Stelle pettinare stop alle visite a pagamento in ospedale liste d'attesa da record 125 giorni per un ecodoppler con il servizio pubblico ma nella stessa struttura bastano 72 ore con il sistema dell'intramenia cioè privato andiamo a vedere nel taglio basso adesso le altre notizie 4 treni pop per l'Abruzzo Trenitalia acquista nuovi mezzi con 300 posti per i pendolari a 24 da 25 la Fittecisle rilancia l'allarme per 700 lavoratori la burocrazia blocca i fondi sulla pagina Abruzzo sempre del quotidiano il centro il titolo non fate uscire la processione il paese in rivolta contro il frate Castelvecchio su Beque residenti a padre Massimiliano giù le mani dal nostro venerdì santo il sindaco salutari mi appello al vescovo e ai fedeli affinché trovino un punto d'intesa anche Monsignor Fuscolo invita a cercare una soluzione e dice bene che il corteo con il Cristo morto si svolga normalmente andiamo nel taglio basso nella chiesa il sangue di San Francesco custodito come reliquia in una teca andiamo a vedere adesso la pagina Abruzzo sul messaggero cambiamo registro la primavera sugli sci Pasqua sulla neve tutto esaurito Roccaraso e boom Alemonia Pizzalto Monte Pratello piste tutte perfettamente fruibili previsto l'arrivo anche di turisti inglesi russi e giapponesi le ottime condizioni grazie alle abbondanti nevicanti alle basse temperature hanno consentito di attivare dei cannoni e poi Campo Imperatore apre in extremis forse a gonfiavele la stagione negli altri due comprensori di Campo Felice e Ovindoli di gran moda anche le ciaspole per percorrere i diversi itinerari attraverso i sentieri tracciati nel taglio basso D'Alfonso insiste non mi dimetto finché non diventerò senatore ieri mattina il governatore ha annunciato la firma di sette convenzioni grazie al masterplan e ha ribadito quello che in realtà dice da tempo cioè che attende la convalida della elezione a senatore andiamo sulla pagina di Pescara sempre sul messaggero il titolo di apertura Corso Vittorio riapre tra gli applausi da ieri sera le auto sono tornate a circolare in direzione nord da domani il traffico sarà consentito in entrambe le direzioni con poche eccezioni i commercianti esultano speriamo che i vigi non stiano con il mitra spianato contro la sosta hanno dichiarato ultimati i lavori dell'ACA per la riparazione della perdita idrica c'è grande attesa per questa novità questo ritorno all'antico in realtà non è proprio una novità andiamo avanti con la politica russo o regione il bivio della stella nascente di Grillo io candidata non lo so ancora dopo la cena con i vertici dei 5 stelle quotazioni in salita per Enrica Sabatini proseguiamo sulla pagina di Pescara del quotidiano il messaggero oltre 2000 parti record di nascite all'ospedale del capoluogo primato regionale al reparto guidato da Maurizio Rosati i dati di dove di dove mi curo confermano l'importanza dei volumi l'addio un amico dell'Abruzzo si parla chiaramente della morte di Fabrizio Frizzi Frizzi e Zaccagnini che amicizia veniva spesso a sciare ma quella del 29 ottobre 2016 per Frizzi fu una presenza in Abruzzo particolarmente solenne a Bolognano il presentatore ricevette il traccetto dell'amicizia di Marcello Zaccagnini andiamo a vedere le altre notizie con la cultura e lo spettacolo da Cavalcanti a Paolini la poesia si fa teatro andiamo ancora avanti con la pagina dell'area metropolitana Ale conoscevi il tuo assassino parola di Laura Lamaletto la madre di Alessandro Neri in un nuovo video pubblicato su Facebook scusate 21 giorni senza sapere nulla troppo dura le amicizie del giovane nel mirino dei carabinieri e ancora la cronaca massacrano di botte due clochard la polizia arresta una coppia di lettoni il fatto è accaduto in via lago di Campotosso il pestaggio dei senza tetto per futili motivi torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire la pagina di Pescara qui il titolo di apertura è dedicato alla tassa sui rifiuti e alla scarenza tari niente multe per chi paga in ritardo Diodati rassicura a chi non ha ricevuto ancora i bollettini no alle sanzioni per i versamenti effettuati pochi giorni dopo il 31 impossibile anche il calcolo fai da te sul sito del comune ci sono le tariffe del 2017 ancora il comune paghi 600 mila euro alla sogget l'ex società di riscossione chiede il rimborso di vecchie fatture parte l'ingiunzione del tribunale nel taglio basso imposta sui passi carrai stop agli aumenti il consiglio provinciale approva una mozione per ridurre le tariffe COSAP cresciute del 40% ancora da Pescara la provincia vende auto furgoni e turbina non ha fondi per aggiustarli e li metti all'asta in un unico lotto il prezzo base è di 9 mila euro scadenza il 16 di aprile Corso Vittorio torna a doppio senso a partire da domani l'annuncio del vice sindaco Blasioli ieri sera l'apertura dell'arteria stradale dopo i lavori effettuati da ACA e ancora panchine da tablet al parco dell'ex caserma di Cocco 5 installazioni del comune per studiare e lavorare all'area aperta proseguiamo con l'omicidio Neri l'amica di Alessandro l'assassino è a Pescara la ragazza assistita da Nerino durante le gravidanze per me è come un fratello intanto su fronte indagini tolti sigilli all'appartamento in centro dei lamaletto nel taglio basso concerto per Del Rosso a elice musica in memoria dell'ideatore dell'hotel Rigopiano e poi arrestati dopo il pestaggio coppia lettone sorpresa dalla polizia in un container andiamo avanti con i testimoni di Geova che commemorano la morte di Gesù sabato al tramonto all'appuntamento per i fedeli pescaresi ancora trasferita la scuola di San Silvestro ieri primo giorno di lezione nell'istituto di via Rubicone Cuzzi dice completeremo al più presto i lavori nell'edificio andiamo sulla pagina di Montesilvano la nuova viabilità i commercianti riaprite piazza Diaz al traffico petizione con 100 firme per cancellare l'isola pedonale nel centro cittadino ma al comune viene chiesto anche di sistemare l'asfalto e l'illuminazione nel taglio basso vigili del fuoco oggi incontro dal prefetto al centro della riunione la richiesta del CONAPO di attivare un presidio permanente sempre attivo andiamo sulla pagina dell'area metropolitana ladro solitario svaliggia la pasticceria amichetti fuggito incappucciato lungo la nazionale con la cassa tra le mani il titolare non si fanno scrupoli che hanno da perdere questo e l'ottavo furto subito ancora per la cronaca anziano derubato e spinto a terra finisce in ospedale per 30 euro è accaduto in via Portogallo a Montesilvano nel taglio basso tari ridotta per chi sceglie città Sant'Angelo giovedì in consiglio comunale la delibera sulle tasse aumento medio dell'1% solo per le case più grandi andiamo nella pagina di Francavilla altro schianto in galleria carambola coinvolge tre auto nel tunnel le piane due donne restano leggermente ferite traffico bloccato per un'ora è accaduto ieri pomeriggio sulla variante alla statale 16 proseguiamo con la pagina della Val Pescara Bussi processo il 28 di settembre tra sei mesi in Cassazione l'atto finale sulla discarica dei veleni intanto viene congelata la prescrizione e poi Torre dei Passeri muore 83 anni in strada ma loro improvviso in Viale Garibaldi pescarese perde la vita sotto gli occhi della moglie e per quanto riguarda Penne riaperta la chiesa di San Domenico folla alla domenica delle palme premiamo ora la pagina di Chieti restiamo al quotidiano il centro andiamo a parlare della camera di commercio perché ieri pomeriggio c'è stata l'elezione della nuova giunta Maramiero il più votato Grilli unico astenuto il settore cooperativo non è rappresentato da nessuno Angelucci da un taglio alle polemiche la mia sarà una presidenza condivisa e qui vedete la foto tutti insieme dopo l'elezione nel taglio basso tari troppo alta rimborsi a 20.000 famiglie Chieti il tar boccia le tariffe per la spazzatura gli aumenti del 2017 approvati senza relazione proseguiamo sulla pagina di Lanciano rapina al centro commerciale assaltano la gioielleria in tre con i fucili impiegate di Sarnioro minacciate e mandate via razzia di Monili inventite che bottino da oltre 100.000 euro l'ha trovata nei campi sdraiatevi a terra e non vi succederà nulla ha detto un bandito che teneva sotto tiro i dipendenti di un negozio di ottica lì vicino ci puntava l'arma contro hanno raccontato andiamo a vedere andiamo a vedere questo titolo e questa notizia anche sul messaggero qui apriamo la pagina di Lanciano Vasto Ortona rapinano con i fucili la gioielleria Sarni bottino da 100.000 euro l'assalto all'ora di pranzo scatta la caccia all'uomo anche con gli elicotteri indagano i carabinieri possiamo andare a vedere insieme il servizio è accaduto tutto in un minuto massimo due armati di fucile e mitra in tre sono entrati al centro commerciale Lanciano mentre un complice li aspettava fuori in auto e hanno poi rapinato il punto vendita a follie d'oro erano alti degli omoni racconta una testimonia ancora spaventata dalla vista delle armi indossavano dei passamontagne ed hanno scavalcato i banconi della gioielleria raccontano le commesse alle quali è stato intimato andate via e non vi succederà niente e così hanno rotto una ventina di tè che hanno arraffato i monili in oro la rapina è stata fulminea riferiscono altri testimoni del negozio di fronte tutto è accaduto poco dopo le 13.30 allungatevi e non vi succede niente raccontano le commesse Emma e Veronica di Grand Vision minacciate dal rapinatore armato che le ha fatte stendere dietro al bancone era italiano confermano sembrava di qua il bottino è da quantificare si ipotizza non inferiore ai 50.000 euro il negozio per ore al titolare di Sarnioro e le commesse hanno fatto l'inventario la gioielleria è assicurata delle indagini si occupano i carabinieri della compagnia di Lanciano sul posto sono intervenuti il comandante capitano Vincenzo Orlando e l'attenente Massimo Canale comandante del nord l'impianto di allarme della gioielleria è scattato subito rilasciando il nebbiogeno di cui è dotato e che serve a limitare la visuale in caso di rapina la banda di malviventi è fuggita a bordo di un SUV bianco imboccando la variante in direzione Castelfrentano segnalato da un agricoltore del posto il SUV è stato ritrovato qualche ora dopo nel territorio comunale di Archie il mezzo è stato recuperato dai carabinieri della compagnia di Atessa allertati per le ricerche nel frattempo in caserva a Lanciano sono state raccolte le testimonianze della rapina spiega il comandante Orlando ha parlato uno solo dei rapinatori mentre gli altri rompevano le teche dice il comandante colpisce il fatto che avevano accento italiano non sfuggono e più attenti le analogie con il colpo messo a segno a febbraio 2017 al punto vendita a foglie d'oro del centro commerciale Temapoli Center a Rocca San Giovanni di quel caso si occupò la polizia di Lanciano andiamo avanti in apertura della pagina di Chieti sul messaggero ritroviamo l'Atari i giudici no all'aumento si possono chiedere i rimborsi il Tar accoglie il ricorso dell'opposizione l'amministrazione di primo finisce K.O ora i cittadini hanno il diritto di avere indietro le somme pagate in eccesso e poi alla Berardi 7 milioni presto i lavori del Masci nel taglio basso caccia la banda che assalta le case rubata pure una pistola malviventi in fuga da una villa con una beretta i carabinieri denunciano due ladri di distributori andiamo a vedere il taglio basso della pagina successiva appunto un coltello alla gola della ex e picchia anche il figlio e viene arrestato l'operazione dei carabinieri di Atessa non rispetta l'ordine di allontanamento e finisce in carcere poi processo multopoli si riparte da zero gli atti tornano al group del tribunale siamo a San Salvo andiamo sul quotidiano il centro e torniamo sulla notizia che riguarda lo stalker di Atessa picchia moglie e figlio 38enne arrestato l'uomo viola il divieto di avvicinamento ordinato dal giudice finisce in carcere a Lanciano vediamo insieme il servizio ha perseguitato l'ex coniuge per mesi con messaggi continui telefonate di giorno e di notte pedinamente anche sul suo posto di lavoro il tutto perché non accettava la fine del loro matrimonio e continui rifiuti dell'ex moglie di riprendere la loro relazione amorosa ha reagito sempre peggio fino a picchiarla e minacciarla con un coltello puntato alla gola una continua ed incessante persecuzione secondo quanto emerso dalla denuncia presentata dalla donna ai carabinieri della stazione di Atessa che dopo aver acquisito ulteriori risultanze hanno arrestato il marito violento eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Lanciano Massimo Canosa su richiesta del PM Serena Rossi in manette è finito un 39enne di Atessa l'arresto è stato effettuato per una condizione di maltrattamento in famiglia aggravatasi nell'ultimo periodo la situazione era diventata insostenibile per cui si rischiava un'escalation ulteriore di tensione che avrebbe potuto portare delle conseguenze molto negative nei confronti della famiglia e delle vittime della moglie e soprattutto dei figli per cui si è reso necessario questa attività è stato il punto di un comportamento vessatorio e ingiurioso con presenza di minacce e lesioni nei confronti della moglie e dei figli e l'attenzione in particolare dell'arma dei carabinieri soprattutto nei confronti di questi fenomeni rimane altissima ma purtroppo l'incipit di tale attività preventiva deve per forza venire sempre sia dall'attenzione dell'arma ma soprattutto dalla possibilità di denunciare delle vittime Andiamo avanti adesso la pagina di Teramo sul centro tragedia sfiorata la sentenza scuola esplosa a Piano Daccio un condannato e quattro assolti un anno e otto mesi per disastro colposo al responsabile di commessa dell'azienda Cipiella Concordia il PM manutenzione non effettuata la difesa non c'ha appello e dichiara che non c'è alcuna responsabilità e ricordo i genitori e i nostri figli salvati soltanto dalla fortuna l'esplosione un'ora dopo l'uscita dalle scuole dei bimbi il centro-destra punta su morra verso le comunali a Teramo e poi Corropoli cinese ferito a colpi di forbice dopo una lite andiamo a vedere anche la pagina di Teramo la prima pagina di Teramo sul messaggero scuola materna esplosa il colpevole uno solo un anno e otto mesi al responsabile della gestione assolti quattro manager della CPL quel pomeriggio del 3 ottobre del 2013 scamparono alla tragedia 34 bambini il libretto d'impianto parla di un boiler a camera stagna non a camera aperta come installato a piano d'accio poi ancora mobbing al Mazzini l'asle minimizza pochi casi su 3.500 dipendenti inevitabile che risulti qualche caso dice il manager Fagnano di spalla neonata con 40 di febbre pediatra da condannare il presidente dell'ordine dei medici chiamerà il dottore nel caso aprirà un procedimento disciplinare poi cabina dell'Enel della Cona si alla delocalizzazione nella pagina successiva Santoleri via dal carcere per il riesame padre e figlio accusati del delitto della pittrice Rapposelli usciranno per poche ore perché la loro condizione è pesante i difensori hanno ottenuto i referti clinici di Giuseppe e continuano a puntare al ricovero in una clinica psichiatrica il treno si ferma traffico in tilt a Cartecchio nella fotografia che vedete poi altra notizia Giulianova travolge con l'auto un cane randaggio comune condannato a risarcire i danni nel taglio basso coltellata a luna di notte grave un trentenne cinese da Corropoli e poi l'alba dello sport apre i primi alberghi mille danno il via alla stagione turistica andiamo a vedere insieme la città condannato solo il responsabile dell'impianto assolti gli altri quattro imputati della CPL Concordia la società gestiva la manutenzione della scuola di Piano Daccio la perizia ha retto la tesi del perito Milia esplosione causata dalla saturazione di gas all'interno del vano caldaie a causa di un problema riduttore e poi innescata dall'accensione del boiler dell'acqua calda proseguiamo nel taglio basso l'autopsia chiarirà la morte dell'albergatore terramano Giacomo Edoardo Malignano steward 39 anni trovato morto nel resort Villa Rosella a Roseto ancora la cronaca spaccio alla villa arrestati due migranti due nigeriani beccati dalla polizia mentre cedevano Mariana minorenni nei pressi del ponticello passiamo alla politica centrodestra al voto scompaginato il percorso per arrivare alla sintesi incontri con il senatore quagliariello tensioni nel blocco civico nuova lista dei tranchediani e poi la nota Forza Italia Lega i civici sottanelliani pronti a correre soli strappo con gli ex modello teramo pomante meglio civici che cinici questa è la battuta e poi andiamo invece nel centro sinistra Cavallari ed Alberto possibilisti sulla sintesi l'appello lanciato dal presidente Renzo Di Sabatino fuori dalla corsa potrebbe passare dalle primarie ancora Covelli conferma i contatti con le civiche il candidato dei popolari di Abruzzo insieme nulla dice su cosa ne sarà della sua candidatura a sindaco proseguiamo ancora con la città fondi del sisma per il nuovo ospedale 80 milioni per la struttura che sorgerà a Teramo il resto per il rilancio di Atri Giulianova e Santomero Mastromauro la rabbia del sindaco di Giulianova che ha deciso che il nuovo ospedale si farà a Teramo e poi nel taglio basso il bomber Granata Paolo Pulici incontra a Teramo i tifosi del Torino la cena incontro è organizzata da Anima Granata andiamo avanti con la cronaca trafitto all'addome con un paio di forbici sfocia nel sangue la lite tra due cinesi in una lavanderia di Corropoli l'aggressore è stato identificato ma ha fatto perdere le sue tracce andiamo nella pagina di Giulianova Mosciano oggi il faccia a faccia tra sindaco e PD questo pomeriggio il consiglio comunale dopo lo scontro in maggioranza il rilancio delle frazioni critiche ai benefici per le attività commerciali per Regno Pavone il gruppo di Casa Civica si dovrebbero estendere anche alle attività già esistenti a Roseto proseguiamo con la lettura del giornale andiamo scusate andiamo nella pagina di Teramo e provincia sul centro intrappolati nell'auto ribaltata due anziani salvati dopo ore tortore i soccorsi scattano dopo che il figlio trova la macchina con i genitori in una scarpata lui ha 84 anni e lei 74 entrambi sono stati ricoverati in ospedale con vari traumi andiamo sulla pagina dell'Aquila rifiuti e bilancio tari e tasi favori ai centri commerciali Carla Cimoroni di l'Aquila chiama commenta per i cittadini nessuna agevolazione i soldi si potevano trovare nel bilancio e poi ancora appalti riecco la lettera di Letta Bertolaso l'Aquila al processo perturbativo ad asta per il restauro alla Campomizi il PM rispolvera l'atto nella pagina successiva svaliggiata la cassaforte del supermercato colpo da 10.000 euro all'M più di Carsoli e ancora il sindaco Biondi a Mosca un accordo importante l'Aquila nel giorno della rottura dell'Europa con la Russia il sindaco si reca appunto in territorio russo nel taglio basso Campo Imperatore la stagione apre giovedì l'Aquila gli impianti di risalita del Gran Sasso rinnovati con la seggiovia quadriposto delle Fontari andiamo sul messaggero andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila subappaltatori non pagati primo processo in tribunale legale rappresentante di una grande ditta è stato citato a giudizio dopo un'indagine tra i lavori non retribuiti anche quelli per la ricostruzione di un edificio in centro nella pagina successiva per messi in centro scatta il giro di vite il comune comincia la ricognizione dei mezzi ammessi l'obiettivo è quello di rendere più vivibile il cuore della città verifiche anche su tipologie e necessità specifiche dell'utenza al momento la criticità maggiore è legata ai camion per i lavori andiamo nella pagina di Avezzano sul Mona PD e Leo attaccano De Angelis da civico a destra che è sbandata la sinistra si ricompatta contro il sindaco che ha anche tanti oppositori interni dopo la formazione del nuovo esecutivo il mistero dei soldi pagati dai cittadini per il ricorso e l'università continuano dunque i problemi per il sindaco di Avezzano e poi di spalla Santa Croce all'autorità concorrenza per i ritardi ancora la battaglia sulla società che imbottiglia acqua nel taglio basso andiamo a Sulmona metano dotto per Foligno da Roma si vuole procedere per tappe rapide Mario Mazzocca una forzatura pendono ricorsi al Tar andiamo ancora avanti e andiamo a vedere l'Abruzzo Sport sul messaggero si parla chiaramente in apertura del Pescara Pescara paura tutti sotto esame la sconfitta interna con l'Empoli trascina il Delfino a soli tre punti di vantaggio dai play out la partita di Brescia diventa dunque uno spartiacque per capire cosa accadrà fino alla fine nel frattempo nella squadra Pettinari e Fornasier si avviano ad andare in panca rientra Valsania il DS Leone dobbiamo ricompattarci a Brescia possibile chance per Coda nel taglio basso di questa pagina troviamo invece il volley di A2 Sieco inaugura il Palasport di Amatrice iniziativa benefica di Ortona insieme a Civita Castellana per domani e ora si sfoglia il roster del futuro andiamo sul centro per vedere insieme la pagina che riguarda il Pescara e dunque la Serie B giovedì allo stadio Rigamonti Pescara in caduta libera Brescia gara della vita in caso di sconfitta il Delfino si ritroverebbe in piena zona retrocessione nelle ultime dieci partite i Biancazzurri giocheranno sei volte in trasferto un calendario difficile per evitare i play out nel taglio basso troviamo invece un'altra notizia che riguarda il Pescara Candeloro pensa di lasciare il calcio salta la trattativa con il Pescara il patron del Francavilla discute su Facebook con gli ultra giallorossi questo mondo non mi appartiene dice l'attuale presidente del Francavilla Calcio andiamo in Serie C adesso Teramo in ripresa De Grazia a Gubbio partita decisiva la mezzala avanti così ci tireremo fuori da questa situazione la vittoria contro la Triestina ha restituito il sorriso al diavolo sabato in Umbria non ci saranno Sales e Settulli ma rientrerà Panico andiamo a vedere adesso anche la Serie D nel taglio basso di questa pagina Bolami va stese fuori gli attributi l'Avezzano rischia di perdere Fanti torniamo sul messaggero andiamo a vedere il titolo sul Teramo Teramo vincere ci ha ridato Morale parla De Grazia però a Gubbio sarà molto importante più importante del successo con la Triestina Palladini dovrà fare a meno di Tulli e anche di Sales ieri tutti a lavoro con un unico obiettivo che è quello della salvezza parliamo adesso di Serie D l'Aquila questo gruppo merita subito la conferma i ragazzi di Battistini non hanno mai mollato nonostante le difficoltà societarie l'Avezzano serie positiva regina degli Abruzzesi terzo posto dietro il Matelli che è la Vispesaro una posizione che rappresenta un ottimo risultato per quanto riguarda invece la Vastese grazie Camerlengo Bolami e Infuriato andiamo a vedere anche il titolo della città per quanto riguarda lo sport e dunque il Teramo a Gubbio per blindare la salvezza diavolo lanciato verso la permanenza e con l'opportunità di chiudere i giochi già sabato alla vigilia di Pasqua la sesta vittoria in campionato vale tanto poi ci sono c'è l'articolo che riguarda De Grazia De Grazia è il nuovo top per il rush conclusivo il centrocampista dopo un periodo di appannamento è tornato centrale per il Teramo torniamo sul quotidiano il centro completiamo la lettura delle pagine dello sport per il calcio a 5 il protagonista Mammarella gode dopo la coppa voglio lo scudetto il portiere dell'acqua e sapone dal trionfo di Pesaro alle ambizioni tricolore siamo la squadra da battere dice e poi il Pescara noi senza rimborsi da novembre le squadre maschile e femminile rigettano la denuncia della società su alcune scommesse anomale andiamo ancora avanti con il basket di A2 la lotta salvezza Roseto è contento il Palamaggetti mi regala energia il play guardia tra i protagonisti del successo sul Mantova il nostro pubblico ci ha dato una marcia in più chiudiamo con l'Abruzzo al trofeo delle regioni da Vernedì a Seregno in Lombardia in campo le squadre maschile e femminile e poi sempre sul quotidiano il centro c'è l'approfondimento sul 57esimo torneo delle regioni di calcio a 11 chiusa la fase a Gironi l'Abruzzo avanza con Juniores e Allievi noi ci fermiamo per questa rassegna stampa mattino 6 torna domani mattina alle ore 8 la nostra informazione invece oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti